Siamo all'Ordine Medici di Palermo per piccoli battiti. Presidente. L'Ordine innanzitutto deve stare vicino alla cittadinanza e alle associazioni che si occupano di salute. Insieme a loro possiamo lavorare. Questo è un momento importante perché si cerca di dare ai bambini quella giusta educazione su problematiche che li possono coinvolgere direttamente. Quindi stranamente parliamo di responsabilizzazione anche degli stessi bambini che noi normalmente cerchiamo di de-responsabilizzare. Anche il corso BLSD per i bambini rientra in questo perché sappiamo che talvolta i bambini si accorgono di cose che gli adulti non sanno osservare opportunamente. Piccoli battiti si occupa di prevenzione cardiaca. Noi presentiamo il progetto alle scuole in età pediatrica. Facciamo questi elettrocardiogrammi grazie ai nostri medici. Vengono refertati i medici dell'Arnas Civico, cardiologia pediatrica e della ritmologia e elettrofisiologia dell'Arnas. Dottor Cipolla, quanti sono in media i casi di cardiologia pediatrica che arrivano al pronto soccorso? Guardi, noi in un anno al pronto soccorso di Cristina dell'Arnas Civico vediamo circa 35.000 bambini. I casi di cardiologia pediatrica vera non sono tantissimi, diciamo che non arrivano che a poche centinaia. Però i casi con cui le madri accompagnano i bambini o per dolore toracico o per sincope vera o riferita o per tachicardia o per altre situazioni sospette sono molti di più. Dottor Sgarrito, quali possono essere le cause specifiche di morte cardica improvvisa dai giovani? Sì, le principali cause di morte cardica improvvisa in età giovanile sono appunto le sindrome aritmogene ereditarie. Sono patologie genetiche ereditarie legate a mutazioni geniche molto particolari che impattano sulla popolazione dei bambini e dei giovani adulti. Sono di difficile ricognizione diagnostica, vanno ricercate e proprio per questo sono importantissimi gli screening sulla popolazione generale, proprio per ricercare i pazienti a rischio che sono altrimenti sani ma soggetti a un rischio aritmico importante. Ci sono dei sintomi che devono essere attenzionati? Certamente, il sintomo che bisogna più attenzionare per poter prevenire la morte improvvisa è la sincope. La sincope è un sintomo molto frequente nei bambini, spessissimo benigno, però alcune volte quando ha determinate caratteristiche, e in particolare si manifesta dopo o durante sforzo, quando la perdita di coscienza è molto prolungata, quando è preceduta da dolore o da palpitazione, sincope significa che può esistere una causa veramente pericolosa sottostante e questa causa va chiaramente diagnosticata, va indagata. Dottor Genco, perché è importante conoscere le manove di primo soccorso anche per i più piccoli? Sì, è importantissimo fin dalle scuole d'infanzia che si possa già poter dare le prime nozioni di primo soccorso, perché abbiamo visto nella cardiopatia congenita che ci sia una possibilità che i bambini vanno incontro anche a un arresto cardiaco, quindi anche il poter effettuare una telefonata al 118 può essere utile per ridurre i tempi dell'attesa del 118. Vice sindaco, anche il Comune di Palermo pronti qui per piccoli battiti. Sì, è un'iniziativa lodevole che il Comune ha inteso patrocinare a testimonianza di un favore da parte dell'amministrazione attiva del Comune di Palermo verso la prevenzione, la cura della salute pubblica è il più grande investimento che una società possa fare, soprattutto se si tratta della salute dei più piccoli, quindi un grazie all'associazione che ha promosso questa iniziativa, ai partecipanti, benvengano iniziative del genere, la sinergia tra l'associazionismo e il mondo del terzo settore può essere fuoriera soltanto di buone cose, quindi il Comune di Palermo è ben lieto di patrocinare iniziative del genere.